I ceci, ricchi di vitamine e minerali, prevengono e curano decine di condizioni Coltivati originariamente nella zona del Mediterraneo, ma oggi diffusi in tutto il mondo, i ceci sono parte della tradizione culinaria di Mezzomondo Ricchi di vitamine e minerali, ma anche di proteine e fibre, i ceci sono eccellenti per proteggere la nostra salute Contengono potassio, calcio, fosforo, magnesio, sodio, ferro, zinco, rame e manganese, ma anche vitamine C, K, E del gruppo B Sono ricchi di fibra, proteine vegetali e acidi grassi omega 3 Digestione. Contenendo grandi quantità di fibra, i ceci aiutano a prevenire la stitichezza promuovendo la regolarità intestinale Inoltre, favoriscono tutte le funzioni del sistema digestivo Ipertensione. Una dieta a basso contenuto di sodio è essenziale per abbassare la pressione. Tuttavia, laumento del consumo di potassio, di cui i ceci ne sono ricchi, può essere di grande aiuto, grazie alle sue proprietà vasodilattatrici Diabete. Vari studi hanno dimostrato che i diabetici di tipo 1 che conducono una dieta con molti alimenti ricchi di fibra, come i ceci, hanno minori livelli di glucosio nel sangue I diabetici di tipo 2 che consumano ceci regolarmente possono migliorare i livelli di zuccheri e lipidi nel sangue Colesterolo. Aumentare il consumo di ceci nella dieta ci aiuta a ridurre le quantità di lipoproteine di bassa densità nel sangue, conosciute anche come colesterolo cattivo Cancro. Il selenio contenuto nei ceci svolge un ruolo importante nella funzione degli enzimi del fegato che aiutano a disintossicarlo, espellendo composti che causano il cancro. Inoltre, la vitamina C dei ceci ha potenti proprietà antiossidanti Ossa. Il contenuto di vitamina K, ferro, fosfato, calcio, magnesio, manganese e zinco dei ceci contribuisce alla formazione delle ossa, migliorando un'estruttura e resistenza Il contenuto di vitamina C dei ceci